bentornati in questo viaggio in maremma siamo qui con queste spighe tra le mani recuperate tra virgolette casualmente dall'orto che stiamo ripulendo per piantarci tante cose belle la cosa che ci stiamo domandando è cosa sono queste spighe che varietà di grano è mai questo spontaneamente ci viene da domandarlo al dolce matteo caloi qualora fossi in ascolto dici dolce matteo tu riesci osservando la morfologia di queste spighe a riconoscerle e oltre al dolce matteo c'è qualcuno che ci sa dire che grano potrebbe essere questo grano potrebbe essere grano etrusco e potrebbe essere un grano etrusco perché il proprietario dell'orto disse che questa era una varietà che gli fu data da un'università un po di anni fa fecero una parcellina poi dopo il progetto non andò avanti oppure fa parte delle varietà del solibam tutto può essere noi non sappiamo sappiamo soltanto che abbiamo trovato questo e quindi se qualcuno vuole aiutarci a comprendere bene saremo molto molto grati e per adesso tutto giro i nostri volti freschi e mattutino e mandiamo tanti bacetti